Quattrato numero 2, finale, Coggio A, Cecilia, contro Rosso, contro Oss, Dalos, Blu. Coggio A, Cecilia, Rosso, Oss, Dalos, Blu. Coggio A, Cecilia, Rosso, 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 Blu. Non ce la fa più, non ce la fa più, non ce la fa più. Devo dire la next one. Perché le categorie non sono fatti bene. Ma questa non vengono. La rossa niente. La rossa niente. Dai, dai! In faccia! Fede, scaldati un po', scaldati un po'. Bravo, Ceci! Bravo, bravo Fede, scaldati! Bravo, Gio! Dai! Dibagni! 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 Ah, Giulia! لا Giulia bravo 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 bravissimo bravo 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 Grazie.